De Gasperi, al tavolo della pace, si presentò dicendo io sono qui a mani vuote, posso soltanto portarvi il contributo dato da quelli 200-300 mila uomini che hanno combattuto nella Resistenza. Questo riconoscimento lo diede De Gasperi che non si può definire indubbiamente un grande uomo di sinistra ma come statista ebbe l'onestà di riconoscere il grande contributo che noi demmo l'ora. Siamo ancora qui, vincemo l'ora, abbiamo vinto contro tutte le persecuzioni e stiamo lavorando per vincere le elezioni che presto avremo per liberarci di una figura che è meglio non parlarne per non sporcarsi la bocca.